Il momento della verità è arrivato. Pietro Lomonaco riabbraccia il Catania correndo al capezzale di Nino Pulvirenti, caduto in disgrazia sia personalmente che in riferimento alle vicende calcistiche. Due anni da autentico incubo, quelle vistute dai tifosi rossazzurri, che adesso intravedono la luce in fondo al tunnel. Già, perché se Lomonaco ha deciso di metterci la faccia, sicuramente non l'avrà affatto a cuor leggero. Il navigato dirigente campano non è tipo che sfidi la sorte senza cognizione di causa. La storia recente insegna come sotto la sua gestione chi è piaccia o meno. Il Catania è tornato stabilmente tra le grandi del calcio italiano, mettendo in vetrina bravi calciatori, per lo più argentini, che fanno tutt'oggi le fortune di molte squadre di Serie A. Rifondazione quindi avviata, nuovo corso che sarà certificato nel contesto della conferenza stampa odierna, che chiarirà già alcuni particolari significativi sulla nuova gestione tecnica e societaria. A cominciare dai più stretti collaboratori, che affiancheranno il nuovo direttore generale, per continuare con l'allenatore, che dovrà guidare la squadra innanzitutto verso la risalita in Serie B, contando sull'allestimento di un organico in grado di venire fuori dalle sabbie mobili della terza serie, palcoscenico sin troppo riduttivo per le potenzialità rossazzurre. Cristian Argulio dovrebbe essere il nuovo direttore sportivo, con Orazio Russo restituito alla ruolo di team manager e Mario Marino, strettissimo collaboratore dello stesso Lomonaco. Uno dei primi punti da cui partire sarà la scelta dell'allenatore, Carmine Gautieri è tra i papabili, ma conoscendo Lomonaco non sono esclusi botti clamorosi.